Ciao ragazzi piccolo avviso prima di iniziare con il video effettivo Allora devo dirvi che non so se questa farm funziona anche nelle versioni diverse rispetto a Minecraft PS4 In quanto appunto non ne possiedo molte Ho quella per PC tuttavia non ho tempo di farla su PC quindi non so dirvi se funziona effettivamente anche su PC E non so dirvi se funziona nemmeno sulla Windows 10 Edition Tuttavia tecnicamente dovrebbe funzionare in quanto sono versioni che hanno aderito all'aggiornamento acquatico In caso non dovesse funzionare fatemelo sapere ma comunque state molto attenti a come vi posizionate Per appunto far funzionare la farm e attenti a come posizionate alcuni blocchi In quanto è richiesta comunque della precisione per farla Detto questo comunque vi lascio al video e spero comunque che la maggior parte di voi riesca a utilizzarla Ricamando anche degli ottimi oggetti da essa A questo punto ragazzi vi auguro una buona visione Ciao a tutti ragazzi sono Peter Reaper e bentornati finalmente in questo nuovo episodio della Minecraft PS4 It Anche conosciuta ormai come Reaper Craft Quest'oggi signori andremo a costruire un nuovo modello per la farm di pesca In quanto con l'aggiornamento acquatico che c'è stato un po' di tempo fa su Minecraft PS4 e su altre piattaforme La maggior parte delle farm di pesca non funzionano più Oppure ci sono alcuni design come quello che ho io all'interno di qua Che funzionano ancora tuttavia non sono più fattibili nella stessa maniera Quindi praticamente non sono più riproducibili Il che significa che appunto saranno più difficili da costruire o avranno qualche meccanica diversa Nonostante questo meccanismo funzioni ancora ragazzi ho deciso di mostrarvi un nuovo metodo per costruire la farm di pesca In quanto ieri giocando con Luca uno dei ragazzi che conoscete anche bene sul canale In quanto è quello che trovate spesso nei video di funny moments su Rainbow Six Siege insieme agli altri E praticamente abbiamo trovato questo nuovo modello di farm di pesca che ovviamente sarà già stato fatto da qualcun altro in giro per il mondo Tuttavia sfrutta un vecchio modello che avevamo fatto anche all'inizio della serie che avevamo messo là dietro Tuttavia era un modello che funziona in maniera abbastanza complicata e ad alcuni infatti non andava Però diciamo che appunto riutilizzando quel vecchio modello e migliorando un pochino sotto certi punti di vista abbiamo scoperto che si può fare una farm di pesca abbastanza efficiente Ed è quella che voglio mostrarvi quest'oggi Per quanto riguarda i materiali di cui avrete bisogno ragazzi avrete bisogno di un pezzetto di stringa Io ne ho presi due perché avevo semplicemente questi qua nella cassa dei mob Poi vi serviranno i tripwire hook quindi praticamente quelli che vengono attaccati alle stringe Dopodiché due tramogge o hopper che sono quelli che voi conoscete bene che servono per spostare gli oggetti da più contenitori Potete anche usarne di più se volete fare un sistema magazzino migliore del mio Io per ora lo farò così poi in caso vogliate aggiungerne altri vedrete come potrete migliorare appunto il sistema di magazzino Un minimo di tre chest per iniziare questo progetto Potete usarne anche due io consiglio tre per fare una doppia cassa dove conservare la roba Un pezzettino uno solo uno eh uno di pietra rossa e un repeater Il vecchio meccanismo utilizzava più pezzetti di pietra rossa e più repeater se non mi sbaglio Tuttavia questo qua è molto più semplice e devo dire funziona a dire vero anche abbastanza bene Inoltre andrò a fare un edificio intorno anche a questa farm di pesca Tuttavia lo farò off camera in quanto ho intenzione di farlo molto simile a quello della vecchia farm di pesca Quindi quello che c'è là dietro Comunque mi servirà anche una fence Poi vedrete il perché poi potete usare il blocco che volete Io utilizzerò un sistema particolare per fare in modo che l'acqua non esca dalla sua posizione Poi potete farlo come volete appunto Ma a me serve una fence e vado anche a prendermi un secchiello in maniera tale da poter prendere l'acqua Allora una volta fatto ciò ci dirigiamo subito in quella zona Ah e vi servono anche mi stavo dimenticando scusatemi Una Adoro i nuovi rumori delle caverne che mi fanno cagare sotto ogni volta Appunto sto dicendo vi servono una bottola in ferro anche e un note block Mi raccomando ragazzi lo dico subito il note block non deve essere coperto sopra e non deve avere blocchi sotto Poi comunque ve lo farò vedere bene durante la costruzione Per costruire la farm comunque ragazzi immaginate questa vostra zona centrale come appunto il vostro blocco centrale dove ci sarà l'acqua in cui andrete a pescare Vi servirà uno spazio largo praticamente tre sia davanti che dietro che appunto ai lati della farm Per fare in modo che essa appunto ci possa stare all'interno di un edificio Comunque a partire dal blocco dove poi ci sarà appunto il blocco centrale di acqua Contate due blocchi a sinistra e cominciate a piazzare le vostre ceste Io consiglio di metterne due per il momento poi potete fare come volete per il sistema di magazzino Poi ragazzi dovrete piazzare due hopper che si dirigono appunto all'interno della cesta Se non sapete come fare dovete mettere in modalità shift che si accede praticamente premendo l'analogico destro del controller Come potete vedere fa così Mentre con l'altro analogico si va in modalità terza persona frontale e retro E praticamente dovrete metterne due che si dirigono appunto all'interno della cesta Se poi volete espandere il sistema di magazzino per questa farm Basta che qua sotto ci mettete altri hopper che si dirigono sotto altre cesta Che si trovano appunto sotto alla grande cesta principale Poi per quanto riguarda il resto della farm Sopra questo hopper dovrete mettere un blocco a vostra scelta Io utilizzerò blocchi di legna scura come ho fatto ieri con Luca nel suo mondo appunto E un altro blocco da questa parte Infatti qua andremo poi a delimitare l'acqua Ovvero qua dentro ci andremo a mettere il nostro blocco d'acqua Dopodiché stessa roba qua dietro quindi fate una cosa di questo tipo E a questo punto ragazzi entrerà in gioco la fence e l'altra cesta che ci siamo portati dietro Vi serviranno anche dei cartelli Uno basta comunque A questo punto esattamente un blocco dietro al hopper Vi servirà mettere una cesta o comunque un qualsiasi altro sistema Voi vogliate usare per bloccare l'acqua dalla furiuscita della zona dell'hopper E mettere dietro la cesta un cartello esattamente in questa maniera Come potete vedere adesso se io vado a prendere il nostro bellissimo secchiello Lo riempio d'acqua e lo mettiamo qua L'acqua non furiuscirà e ci permetterà appunto di utilizzare questa zona come zona di pesca Alcuni di voi probabilmente già noteranno che questo design è veramente molto simile A quello vecchio che esisteva un pochino di tempo fa Tuttavia è diverso adesso vi mostro perché Qua sopra comunque dovete fare una sorta di ala Se così si può chiamare Sopra ogni blocco che abbiamo piazzato prima In quanto ci servirà per piazzare i tripwire hook Ovvero quegli affarini che si attivano con appunto la stringa Si chiamano ganci in italiano non lo so Però tripwire hook ci sta molto meglio In quanto tripwire sta per letteralmente ganci da trappola praticamente Il tripwire è quello che si piazza per far inciampare la gente Dopo aver messo i due blocchi qua legati dal laccio Come potete vedere si attiveranno nel momento in cui ci si andrà sopra qualcosa In questo caso il nostro filo da pesca Comunque da questa parte invece dovremo andare a mettere un altro blocco Con sopra il nostro bellissimo note block che ci siamo portati dietro prima E davanti al note block signori dovremo metterci una botola La quale consiglio di mettere lateralmente e non rivolta verso il note block stesso In quanto il note block ci serve appunto per far funzionare la farm Dopodiché andate a rimuovere immediatamente questo blocco sotto il note block Adesso sto facendo una notte quindi vado a dormire E adesso vi mostro come continuare il resto della farm comunque E a questo punto signori esattamente qua di fianco dove si trova la nostra botola Dovremmo andare a mettere un blocco qua sotto Dopodiché un blocco affiancato a questo in maniera tale che avremo una roba di questo genere Come potete vedere ci troviamo con un blocco un pochino più in basso rispetto a questo qua Dove c'è attaccato il tripwire hook Potete farlo anche dall'altra parte Io l'ho fatto da questa parte per comodità semplicemente Basta che lo fate soltanto da una e non da entrambe le parti Dopodiché un blocco in basso rispetto a questo qua In quanto ragazzi qua sopra dovremo andare a mettere i nostri due componenti di pietra rossa Ovvero il repeater che andremo a mettere qua giù con 4 tick rivolto verso la botola di ferro Quindi verso questa direzione con 4 tick mi raccomando E dopodiché un pezzettino di polvere di pietra rossa qua sopra Che appunto come potete vedere si andrà ad attivare nel momento in cui andremo sul tripwire hook Oppure quando ci andrà la canna da pesca Guarda qua Stavo facendo il test per vedere se funzionava e ho pescato un altro tripwire hook Comunque ragazzi bene sì la farm è tutta questa qua Per farla funzionare tuttavia richiede un posizionamento specifico da parte vostra Quindi mi raccomando state attenti a come vi piazzate Dovete mettervi praticamente davanti alla farm e mirare pochissimo sopra rispetto al blocco di legna dietro all'acqua Quindi praticamente qua Come potete vedere la croce del mirino è pochissimo sopra il blocco di legna che abbiamo praticamente davanti a noi Tuttavia ragazzi non state attaccati troppo al blocco dell'acqua perché altrimenti non attiverete la farm di pesca Comunque vi basterà mirare praticamente alla giusta altezza E una volta fatto ciò come potete vedere troverete uno spazio che vi permette di continuare a colpire il noteblock Tenendo premuto il pulsante per pescare A questo punto potete mettere un elastico oppure potete mettere il controller in maniera tale che appunto il tasto non sia mai Non premuto in maniera tale che come potete vedere appunto la farm funzioni AFK Ed è una farm davvero molto molto utile in quanto se voi lasciate così il controller per un'ora e avete la farm e avete la canna da pesca con Rammendo che oppure Mending che è l'incantesimo che vi dà l'esperienza e che vi ripara gli oggetti con l'esperienza appunto È davvero una farm che può durare all'infinito e che può fornirvi davvero delle cose molto molto utili quindi vi consiglio vivamente di fare Questa farm Poi ovviamente ce ne sono altre io ho trovato questo design costruendolo insieme a Luca appunto nel suo mondo ma devo dire funziona davvero molto molto bene E richiede pochi materiali quindi veramente ve lo consiglio Adesso qua c'è andato un pochino male comunque spero di avere un pochino più di fortuna in futuro trovando magari qualche libro incantato da poter migliorare questa Questa canna da pesca E ragazzi la farm è tutta qua io direi che non c'è altro da mostrarvi Ho voluto fare questo tutorial perché me l'avete chiesto in molti di fare una nuova farm in quanto quelle vecchie purtroppo avranno smesso di funzionare per alcuni di voi E questa qua mi sembra abbastanza semplice mi raccomando state attenti a come vi posizionate perché come potete vedere comunque questo filo qua che abbiamo messo sopra ha una hitbox E se vedete la hitbox non si colpisce poco sotto il filo stesso quindi è per questo che dovete trovare un buon posizionamento e non dovete stare attaccati al blocco Basta che vi mettete tipo un pochino più indietro e poi tirate appunto la canna da pesca in questo spazio poco sopra il blocco di legna E ragazzi tutto qua la farm come potete vedere è molto semplice da fare e funziona davvero molto bene molto bene Vi invito a lasciare un bel pollicino in su se vi è stato utile e ragazzi a questo punto direi di concludere l'episodio So che è stato un episodio un pochino corto ma in molti di voi mi avevano chiesto di riportarvi un tutorial su una farm di pesca funzionante appunto all'interno del nuovo aggiornamento acquatico su PS4 Come detto all'inizio del video non so se questa farm funziona anche nelle versioni che hanno aderito al Better Together Non credo in quanto ci sono delle meccaniche strane su quella versione lì ma dovrebbe funzionare sulle versioni che sono praticamente quella uguale alla PS4 Quindi spero comunque che questo design possa essere utile alla maggior parte di voi in caso mi dispiace cercherò di trovarne magari qualcun altro funzionante anche sulle altre versioni Io comunque nel frattempo spero ovviamente appunto che questo video vi sia piaciuto se si fatemelo sapere appunto lasciando un bel pollicino in su e iscrivendovi Attivando anche la campanellina delle iscrizioni in maniera tale che vi arrivi un avviso ogni volta che viene caricato un nuovo video Io vi ricordo che porto una varietà di giochi sul canale quali Super Smash Bros, Minecraft, Apex Legends e anche altri giochi Quindi non preoccupatevi se vedete che però porto altro contenuto sono sempre io mi diverto un pochino a portare un po' di tutto E ragazzi a questo punto ci vediamo nel prossimo episodio in cui probabilmente avrò costruito la nuova casa del pescatore intorno alla nuova farm Che devo dire ci sta anche bene perché adesso siamo effettivamente vicini a un fiume A questo punto ragazzi non mi resta altro che augurarvi una buona giornata, una buona serata e ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi oppure nella prossima live visto che potrebbe esserci una live su Apex Legends nei prossimi giorni